Sono tanti gli interrogativi ancora aperti, tante le cose oscure in questo incidente. Ci arriveremo fra un po' perché abbiamo provato a mettere in fila i punti, anche a chiamare un esperto. Però, Vittorio, parto da te perché mi ha molto colpito, devo dire, oggi il titolo di Libero, no? Scarica Barile sulla strage, è solida Italia, non si sa di chi è la funivia. Effettivamente anche per me questa cosa è stata incredibile. Ma com'è possibile che non sappiamo se è del Comune o è della Regione, che non sappiamo, le persone che tengono la funivia, che hanno l'appalto per gestirla, come la gestiscono? Cioè, non mi riesco a rassegnare che è un paese in cui può capitare normalmente una cosa come questa. Vittorio? Purtroppo l'intrico burocratico è tale per cui diventa difficile tutto nel nostro paese. Persino capire come mai si è spezzato un cavo. Si dice che sono state fatte delle revisioni. Sì, ma poi bisogna vedere come vengono fatte queste revisioni. Perché è evidente che un cavo sia pure d'acciaio, a lungo andare si usura e magari bisogna cambiarlo. Se nessuno se ne accorge perché la verifica viene fatta con la mano sinistra, è evidente che poi possano accadere incidenti di questo tipo. Però devo anche essere abbastanza rassicurante con coloro che ci ascoltano. Perché incidenti di questo tipo sono rarissimi. Io ne ricordo uno spaventoso a Cavalese, 40-80 anni fa. Allora lavoravo a Corriere della Sera e andai a vedere cos'era successo. E c'erano 40 persone in una di queste cabine volanti. Tutte diciamo ammassate e morte per l'impatto della cabina. Sembrava una scatoletta di carne in scatola. Una cosa spaventosa. Solo una ragazza si salvò, sia pure riportando delle fratture gravi alle gambe. Ma anche in quella circostanza non si riuscì a capire quali fossero le cause della tragedia. E in sostanza siamo rimasti per 40 anni senza una risposta. Perché ai primi giorni c'è la commozione. Come noi tutti oggi siamo scossi da questa vicenda. Ma fra un po' ci dimenticheremo. E per cui anche l'inchiesta proseguirà. Boh, speriamo non alla carrona. Tutto qua. Io non ho altro da dire. Però gli incidenti diciamo su questi mezzi sono rarissime. Quindi si muore molto più facilmente in bicicletta o in motocicletta per strada che non in queste circostanze. Quindi non bisogna neanche troppo spaventare la gente che usa queste scatolette volanti. Io sono convinto che siano abbastanza sicure. Tant'è vero che quando accade un fatto di questo tipo mandiamo tutti i sgomenti proprio per la rarità in cui avvengono. Beh, in effetti la cosa che dopo lo sgomento tendiamo a dimenticare è vera. Diciamo che il Ponte Morandi è stato un po' un unicum. Perché è stato talmente enorme. E poi c'era quello scheletro che separava Genova. Ne abbiamo parlato per mesi, per anni. Se no il rischio che poi tutto torni alla normalità c'è. Però secondo me capire esattamente cosa è accaduto è molto importante. Non possiamo accontentarci di mezze verità. Massimiliano Romeo